Siamo qui alla boutique Essenza con Alessandra. Alessandra ci mostrerà un altro punto di vista del wedding, generalmente parliamo sempre di sposa, di abito bianco, questa volta invece ci occupiamo dell'uomo. Quali sono i modelli più richiesti, quello più quotato? Il modello più quotato di quest'anno è un coreano, lo faccio vedere, è denominato il loguru, proprio per l'abito maschile. Allora, a differenza di un collo classico, come qui potete notare, questo non ha collo, quindi è praticamente diverso, è liscio. Quali sono invece i colori maggiormente richiesti dall'uomo? Allora, per quanto riguarda i colori, diciamo, per un abito da sposo, più o meno sono sempre gli stessi, quindi variano sulle tonalità del grigio, del nero, del blu, e quindi poi ci sono ambiti anche più particolari, però non sono maggiormente richiesti. Magari per uno sposo più eccentrico possiamo consigliare qualcosa, appunto potete vedere già nello stand, come questi benefici, questo magnifico trio che troverete qui in avanti. Sì, in effetti i colori sono molto particolari, però comunque è per qualcuno che decide appunto di mettersi in mostra quella giornata. Per gli eccentrici, diciamo, perché certo uno deve far fronte alle richieste di tutti, quindi dal più semplice al più eccentrico. Quindi noi ringraziamo la nostra Alessandra, grazie mille Alessandra e un saluto da Rottibu Italia e dall'atelier Essenza.